Per l'anno 2000, la vendita di olio in Italia è fornita. Per questo motivo, non è possibile acquistarlo direttamente dal agricolo, nel mercato o nell'olio. Per l'altro, si può acquistarlo solo in contenuti, come battoli o tinte, con i label legali. Nel label, si può trovare la classificazione di olio, in altre parole, l'olio che si acquistano e la sua tracabilità. Al contrario, nel luce olio non si trova questo tipo di informazione. Scusate, ho scoperto di introdurre me. Sono Mirko e sono un olio di Tuscany. In questo video vi spiegherò il miglior modo di leggere un label di olio. Quindi, dopo questo video, spero che potresti riconoscere l'olio che si acquistano e la sua origine. Un'importante cosa che dovete sapere. Molti brand italiani hanno stato acquistato molto importanti dal mercato internazionale, come spagnolo o città. Questo succede perché le brand italiane sono considerate molto importanti sul mercato internazionale. E ho notato che molti persone hanno usato a scoprire la brand con l'origine di olio. Quindi, in molti casi, la brand è italiana, ma l'olio non è solo italiana. Potete concentrarsi su tre elementi per valutare la vera olio per voi. Il tipo di olio che compravi, cosa significa e la sua origine. Ci sono quattro tipi di olio. Oio di olio extravergine, olio di olio, olio di 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 olio. Il olio extravergine è un olio che è fatto da un processo meccanico con la macchina nell'olio di olio, con le olio di olio di olio. Ci sono due tipi di parametri per ottenere un olio extravergine olio, chimico e sensoriale. Il primo è fatto nel laboratorio, mentre il secondo è provato da un gruppo professionale. di olio di olio di olio. Quindi ci sono alcuni parametri regolati dal luogo per classificare un olio extravergine olio. Facciamo un esempio. Parliamo di acidità olio. Questo parametro è dato dalla qualità delle olio durante il processo di lavoro. Quindi, questo è meno se le olio sono buone. Al contrario, questo parametro è alto se le olio sono buone. Per avere un olio extravergine olio, il parametro di acidità deve essere sotto 0,8%. Ma il problema è che un olio con 0,1% o un olio con 0,7% sono considerato un olio extravergine olio. ma l'aroma e la qualità sono sicuramente diversi. E dovete sapere che i produttori non sono obbligati a scrivere questo parametro sul label. che si tratta di un olio di olio extravergine olio. Per vendere sono diversi tipi di olio extravergine olio. In bottone o tini con diverse origini. Un tipo di olio che è un mix di olio che viene da diversi paesi comuni. Come gli spagnoli o gli greci. O da altri paesi non europei. Come Tunisia o Marocco. In questi casi non c'è un produttore specifico. Ma le compagnie chiedono l'olio da diversi paesi e lo battagliano. L'utilizzeri non conoscono il percentaggio dei diversi produttori. Al contrario, potete leggere solo l'olio comunale o l'olio da non europei. Oio da Italia. In questo caso è utile per dare una distinzione tra produzione e battagliano. Possono essere la stessa persona. In questo caso potete leggere sul label produzione e battagliano con il nome della farmia. È possibile comprare un olio di olio che viene da un'area specifica. Per esempio da Tuscania. In questo caso potete leggere Toscano sul label. Inoltre c'è l'olio di virgine. La sua qualità è verra che l'olio extravirgine, anche se l'olio di virgine è fatto da un processo meccanico. Ma in questo caso l'acidità è sotto 0,8%. Poi potete trovare l'olio di olio. È un'olio di olio di rifinato e olio di virgine. Quale è un olio di rifinato? Questo olio è fatto da un processo chimico industriale. Con questo processo, alcuni errori e aromas sono eliminati. Questo processo chimico è fatto da direttamente, come nel caso di olio vegetale. L'olio di rifinato mantiene i acidi fatti che sono i componenti di olio alimentare. Inoltre, il suo aroma è semplice. Quindi, un percento di olio di virgine è aggiunto per ottenere un piccolo colore e gusto. Ma quanto è aggiunto il olio di virgine? Il luogo non lo regolirà. In questo caso, non rilassate l'olio che è sul label con la reale origine dell'olio. Ora facciamo un esempio. Qui potete leggere il nome della città Luca. Ma guardatevi attenzione. Questo non significa che questo olio è venuto da Luca. Ma Luca è solo la città del vendere. Il reale origine non è scritto. Questo olio è un olio rifinato. In conclusione, possiamo parlare di olio di asco. Cosa è l'olio di asco? Nell'olio di olio, durante il processo di lavorazione, la macchina separa i tre elementi delle olio, l'olio, l'acqua, l'acqua e la città. Dentro della città, un piccolo colpo resta e la città con la colpo sono chiamati asco. Questo asco è trasportato nella industria. che, con una estrazione chimica, separa l'olio dall'asco. A questo punto, questo olio è rifinato e qualche olio di olio è aggiunto. Ora l'olio di asco è pronto. Quindi, attenzione a questi tre elementi ogni volta che puoi leggere un label olio di olio. che producono, che battagliano, che distribuono. Quindi, quando vai al supermercato, attenzione al label. E se avete alcune questioni, scrivete a me. Buongiorno da Tuscany. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.